di Napoli, Maria, Maria, faceva la sarta nel tempo libero, amava parlare e andare in bici, ma soprattutto fare la nonna tempo pieno, dei suoi tre nipotini, Maria, Maria, hai fatto un cavolavoro, brava, abbiamo Katia Macaro, 5-8 anni di Sabaudia, di Sabaudia, casalinga, mamma di due figli e nonna di tre nipoti, quattro, ma perché mi scrivete una cosa per un'altra? Ah, è andato stanotte, ah, Cristian è andato stanotte il quarto, bene, bene, oh, giovani, giovani, già piene di nipoti, è una bella famiglia numerosa, complimenti, e dopo viaggio, Maria Sposino, poi abbiamo Katia Macaro, qui la scelta è stata più facile, perché siete due, quindi, meglio le farei passare tutte a due, ecco, un attimo che facciamo la la rullata, la rullata, e va in finale, Maria, Maria Esposino, Maria Esposino, l'eleganza, brava, brava, complimenti a tutte, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.